A San Lorenzo del Vallo si spara ancora, madre e figlia sono state assassinate questa mattina nel Cosentino, un duplice omicidio che gli inquirenti riconducono ad una vendetta per un altro fatto di sangue, l'omicidio Galizia compiuto a renda del maggio scorso da Francesco Attanasio, figlio e fratello delle vittime. L'Italia trema, serve prevenzione, a dirlo è il presidente dell'Ordine regionale dei geologi della Calabria, Francesco Fragale, che dopo le ultime tremende scosse che hanno interessato il centro Italia, si appella ai sindaci affinché approvino i piani di protezione civile dei loro comuni. La voce dell'impresa, aziende calabresi tra difficoltà e necessità di aprirsi a nuovi mercati, dalla loro parte Confindustria che Catanzaro ha fatto il punto sulle strategie per il cambiamento sul piano economico e produttivo della Calabria. Gli ottoni davanti ai bronzi, al Museo Nazionale di Reggio Calabria in solito mix tra archeologia e musica. Davanti ai celeberrimi bronzi di Riace è andata in scena l'esibizione dell'orchestra giovanile di Fiati Nicola Spadaro di Delia Nuova, una contaminazione culturale da applausi. Tra Modena e Civitanova, dietro le spalle la sconfitta sul campo dei campioni d'Italia all'orizzonte il match con l'altra capolista. Martedì a Vibo sbarca la corazzata dell'ex Blengini, un'altra festa del volley, servono i punti però. Ancora buona domenica dalla redazione di RAC News 24 e da Alessio Bonpasso, una domenica ricca di fatti e di notizie, un'altra domenica purtroppo terribile per le popolazioni del centro Italia colpite da una nuova scossa di terremoto, la più alta registrata tra l'altro degli ultimi 30 anni, fenomeni che non lasciano scampo neanche alle popolazioni del sud, alle regioni del sud. Torneremo su questi fatti tra pochissimo, prima un'altra notizia, un altro fatto di sangue nella nostra regione. A San Lorenzo del Vallo uccise due donne, guardate. Si chiamavano essa costabile Ida Atanasio, le due donne, madre e figlia di 77 e 52 anni, assassinate questa mattina a San Lorenzo del Vallo. Sono state uccise a colpi d'arma da fuoco mentre si recavano al cimitero, un delitto efferato sul quale indagano i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e i militari del gruppo operativo agli ordini del colonnello Verticchio. Sul posto anche gli uomini della squadra mobile di Cosenza, diretti dal vicequestore Zanfini. Le due donne, secondo le prime indicazioni, sarebbero state raggiunte dai proiettili alle spalle. Essa costabile e Ida Atanasio erano la madre e la sorella di Francesco Atanasio, il giovane accusato di avere a sua volta ucciso nello scorso mese di maggio Damiano Galizia da Caracata di Rende per un debito di circa 17 mila euro. Francesco Atanasio era stato avvistato il 2 maggio scorso confessando spontaneamente l'omicidio. Aveva paura ed aveva deciso di consegnarsi agli agenti della questura. Al momento gli investigatori che indagano sul duplice omicidio di questa mattina non escludono alcune ipotesi, anche se accertamenti sono in corso per verificare se vi sia un collegamento con quanto avvenuto sei mesi fa. Questa vicenda si intreccia anche con il ritrovamento di un arsenale di armi del valore di circa 100 mila euro nascosto in un box a 4 miglia di rende, affittato da Galizia e rintracciato dalle forze dell'ordine, forse proprio in seguito alla soffiata dello stesso Atanasio. Salvatore Bruno per la CNews24. E dicevamo in apertura, lo avrete sentito anche voi, fortissima scossa stamattina alle 7.40 nel centro Italia, la più alta degli ultimi 30 anni, fenomeni che non risparmiano neppure il sud Italia, interessato da diversi movimenti nelle ultime ore. Ma cosa fare per limitare i rischi? L'abbiamo chiesto al Presidente regionale dell'Ordine dei Geologi della Calabria, Francesco Fragale, che ha lanciato un appello ai sindaci. Ci sono queste faglie che sono attivate, probabilmente ha un effetto domino perché si imbossa una faglia, adesso magari si percuote questo stress su quelle adiacenti e probabilmente, ma questo ancora non glielo so dire, avrà innescato il movimento di qualche altra faglia. Ed ecco questo terremoto con una intensità, appunto come diceva lei, mai registrato negli ultimi 30 anni, addirittura dal terremoto forse quello dell'Irpinia nel 1980. Il terremoto sappiamo che è un fenomeno naturale, non si può prevedere, ci sono tante incertezze ancora, sappiamo soltanto che ci sono delle aree che sono più soggette a questo problema, queste le conosciamo. Allora ecco, noi dobbiamo sempre vivere come se un grosso terremoto si possa verificare da un momento all'altro, a prescindere di quello che sta succedendo nel centro Italia, noi stiamo in Calabria e in Calabria lo sappiamo bene, noi delle regioni al più alto rischio sismico del bacio del Mediterraneo, per cui dobbiamo sempre stare allerta e saper convivere con questo rischio, essere preparati, bisogna, le criteri di emergenza comunale è uno strumento importantissimo, sono indicate le procedure in caso di emergenza da fornire ai cittadini, i cittadini devono essere consapevoli di queste procedure e sappiamo bene che in Calabria purtroppo i comuni ancora non si sono dotati tutti di questo strumento importantissimo. Io stamattina l'appello, come ho avuto già modo di dire, anche nel tavolo tecnico Calabria Sicura che si è restituito l'indomani della prima crisi sismica che c'è stata ad agosto dal Presidente Oliverio, è necessario cercare di indica dei fondi, di finanziamento per questi comuni che non riescono a dotarsi di questo importantissimo strumento. Dicevamo una domenica ricca di fatti, di notizie, purtroppo ce n'è un'altra triste da raccontarvi che potrete approfondire sul nostro sito, ilvibonese.it. Come potete vedere questa la home colto da malore va a sbattere con l'auto contro una farmacia grave, l'ex sindaco di Acquaro. Siamo nel Vibonese evidentemente, l'incidente davanti a numerose persone che in quel momento uscivano dalla chiesa dopo la messa domenicale, è necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere il ferito che ora versa in condizioni disperate, sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua autovettura ad Acquaro, andando poi a sbattere violentamente con il veicolo contro la saracinesca della farmacia David, situata su Corso Umberto I, la via principale del paese, sfondandola completamente e finendo la sua corsa dentro l'esercizio commerciale. Protagonista dell'incidente Luigi Colaci, ex sindaco di Acquaro, sul luogo della sinistro si sono prontamente portati i sanitari del 118 che, constatate le gravi condizioni dell'uomo, hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento verso l'ospedale di Catanzaro. L'incidente ha provocato panico anche tra i numerosi presenti che in quel momento in concomitanza con l'uscita dalla chiesa dopo la messa domenicale affollavano le vie del centro cittadino. Approfondimenti ancora sul vibonese.it, passiamo a temi decisamente più tranquilli, si parla di impresa, si parla di difficoltà delle imprese calabrese e necessità di aprirsi verso i mercati internazionali. Fare imprese in Calabria non è del tutto facile, però non dobbiamo guardare soltanto al nostro mercato locale, ma dobbiamo cercare anche di spingerci oltre e quindi andare a cercare dei mercati che sono dei mercati internazionali. Oggi si parla tanto di globalizzazione, quindi non si può pensare soltanto al mercato locale, ma bisogna anche crescere fuori dalla nostra regione. In Calabria le imprese, anche se non sono significativamente importanti se paragonate al resto del Paese, fanno dei miracoli, anche rispetto ai nostri competitor, per esempio della pianura padana. Ed è questa la cosa più caratterizzante e positiva per il futuro. È innegabile che però ci sono tutta una serie di problemi di sistema che non consentono di guardare ad alcune opportunità, tipo quella dell'estero, che in questo momento sono molto importanti per noi. Stiamo però all'interno di alcune reti, e questo è importante, il fatto di essere inseriti alcune reti commerciali, industriali, è fondamentale per la Calabria, perché l'isolamento non è solo un isolamento infrastrutturale, ma potrebbe essere anche un isolamento di tipo commerciale. quello che chiediamo è che la regione, la politica in generale, metta in condizione le imprese, soprattutto le più piccole, di poter crescere, di poter operare in condizioni normali, in un mercato dove le imprese possano operare al pari dei colleghi delle altre regioni, sia d'Italia che d'Europa. Rossella Galati per la CNews 24 Nella sala Sancti Petri di Catanzaro, la premiazione al termine del concorso Misericordia, indetto dall'Arcidiocesi di Catanzaro e Squillazio, c'eravamo anche noi. Nell'aula Sancti Petri a Catanzaro, la premiazione al termine del concorso che ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, dell'Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. I scolari sono stati invitati a comporre nel corso dell'anno canti o poesie o a realizzare opere artistiche dedicate al tema della misericordia. Sono state poi classificate le opere più belle e i vincitori sono stati premiati. Io ho scritto questa poesia principalmente perché l'uomo ha bisogno di Dio e senza Dio non si può vivere, perciò è anche questo un significato di misericordia perché tutti dobbiamo essere misericordiosi come il padre. E all'Istituto Comprensivo Casalin Nuovo di Catanzaro Sud da sempre le famiglie, la scuola e le istituzioni lavorano insieme per aiutare gli ultimi, i più bisognosi. I ragazzi quotidianamente svolgono questo atto di misericordia nei confronti dei più deboli, dei bambini più bisognosi. Stavo dicendo prima, quando in una prima elementare quattro mangiano e quattro guardano, la scuola è intervenuta attraverso fondi esterni per far mangiare tutti e in modo che tutti mangiano tutti la stessa cosa. I ragazzi tutti contribuiscono a questa grande generosità rivolta sempre ai bambini più debole e più bisognosi. Rosaria Giovannone per la CNews24. Ecco senza invece il consueto appuntamento con la festa del cioccolato. 80 stand dislocati lungo l'isola piedonale di Corso Mazzini fino a Piazza Bilotti per un totale di 60 espositori. Grandi numeri per la quattordicesima edizione della festa del cioccolato di Cosenza, iniziativa congiunta della Camera di Commercio della CNA dell'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi. Il centro cittadino, anche grazie alle condizioni climatiche favorevoli, è stato preso d'assalto dai visitatori. Apprezzate dai golosi provenienti da tutta la Calabria le produzioni artigianali dei maestri cioccolatieri, con creazioni a base di cioccolato, laboratori aperti e degustazioni. Presenti tra gli altri gli stand dell'Istituto Alberghiero Mancini e della Federazione Pasticceri Italiani, da segnalare anche la partecipazione di espositori provenienti dalla Toscana. La Kermes prosegue anche per tutta la giornata di domenica. Nell'ambito di questa particolare festa del gusto, anche numerose iniziative pensate per i più piccoli, come i laboratori e i corsi per i bimbi di cake design e biscotti colori, colorati e decorati. Diverse poi le attività di intrattenimento, con animatori e maschere dei personaggi, dei cartoni animati e dei fumetti. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Un mix di archeologia e musica sotto gli occhi dei bronzi di Riace, l'orchestra giovanile di Fiati, Nicola Spadaro di Delia Nuova. Comeriggio di cultura e legalità al Museo archeologico di Reggio, nella piazza centrale della struttura, sotto gli occhi vigili dei bronzi di Riace, i ragazzi dell'orchestra giovanile di Fiati di Delia Nuova hanno deliziato le orecchie dei visitatori con Musica al Museo dall'Ottocento al Novecento. Un brano tratto dalla norma di Vincenzo Bellini ha aperto un'esibizione impreziosita dalle voci della soprano Federica Gallo e del baritono Alessandro Tirotta. Un altro successo per un'orchestra che nel 2006 ha avuto l'onore di essere diretta dal maestro Riccardo Muti. Il giusto riconoscimento per questi ragazzi che hanno portato il nome della Calabria e della cultura calabrese, quella vera, l'hanno portato in giro per il mondo. Ricordo con molto piacere questo episodio che ha buttato le basi, ha gettato le basi perché la musica calabrese, la musica delle bande calabresi fosse conosciuta in tutto il mondo. Oggi qui nella casa dei bronzi di Riace credo che si possa celebrare una sorta di matrimonio fra vari tipi di cultura, la cultura dell'archeologia, la cultura museale con la cultura musicale. Sono un matrimonio che certamente è un matrimonio a buon fine. Francesco Creazzo per la Cineus 24 Adesso siamo allo sport, la pallavolo in primo piano, chiedo scusa con la Callipo che a Modena fa prova a strappare via a qualche punto. Non ci riesce troppi gli errori degli attaccanti giallorossi e martedì si ritorna in campo, arriva Civitanova dell'ex Blengini. Nessuna sorpresa, nessuno sconto. Modena fa Modena e Vibo Valencia resta a bocca asciutta. Troppo forte la corazzata emiliana, troppe. Le energie perse contro Perugia per ripetere l'esplua con gli Umbri e mettere in tasca anche solo un punto. Dopo due giornate positive la Tonocallipo torna ad assaporare il gusto del digiuno in classifica. La squadra di Coach Cantor lotta nelle fasi iniziali di tutti e tre set, perdendosi poi per strada, complice a un attacco poco prolifico. Praticamente perfetta, invece, l'Azimuth in tutti i fondamentali. Matteo Piano, 11 punti, 58% in attacco, 4 muri personali. È il più performante dei padroni di casa ed è MVP dell'incontro. Tra fatti e regalati, chiude con un più 10 che lo pone con un bottino di 11 punti personali ad un solo punto dall'opposto vettori. Modena ha brillato in tutti i frangenti del match, dominando la scena con un 53% in attacco, troppo, rispetto al 38% di Vibo. Solo Michalovic va in doppia cifra, ma il suo è un 10 su 29 che insintetizza la poca incisività nel match dei maggiori fucilieri giallorossi. La squadra è subito rientrata in Calabria, dove martedì sbarcherà l'altra capolista cività nuova dell'ex Chico Blengini, CT della nazionale vice campione olimpica a Rio. Un'altra festa della pallavoro, un'altra sfida, tutta da vivere. Alessio Buompasso per la Cinus24. E prima di andare a vedere un po' quello che sarà il prossimo turno, risultati della sesta giornata in Superlega, detto appunto della sconfitta della Tonocalipo Vibo in quella di Modena per 3-0, Civitanova-Padova 3-2, Trantino-Perugia 3-1, Molfetta-Ravenna 1-3, Monza-Latina 3-0, Piacenza-Milano 3-2. Questa la classifica dopo sei giornate, guardando ovviamente alla settima che si giocherà martedì. Modena e Civitanova in testa a 17 punti, 15 Verona 14-30, 13 Perugia, poi Solco più in giù 10, Monza 8-0, Padova 7-0, Ravenna 6-0, Piacenza 5-0, Milano Molfetta 4-0, 3 punti per Vibo-Valenzia e Sora, 1 per il Latina. Una sconfitta indolore, se vogliamo, per la Tonocalipo, da cui il tecnico Coach Cantor però prende comunque delle notizie positive. Sentite. Qualcosa di buono abbiamo fatto, abbiamo fatto sicuramente i primi due set a buoni livelli, abbiamo tenuto il livello di gioco, certamente le equivalenze delle due squadre sono diverse, quindi quando loro vengono fuori con le loro battute, la loro impronta in attacco a muro poi si fa molto più difficile. Però noi abbiamo tenuto, abbiamo sbagliato anche noi, qualche errore di troppo sul primo set e qualche battuta che non dovevamo sbagliare, però i primi due set tutto sommato penso che sia stata una buona esperienza per noi, il terzo abbiamo sofferto molto di più. Abbastanza bene i brasiliani, ha deluso invece un po' Gilles, come si sta amalgamando questo gruppo? No, vabbè, sono giocatori che devono assimilare il campionato italiano, non hanno mai giocato nella Uno italiana con tutto quello che significa e quindi hanno questi balzi, magari una partita giocano bene e l'altra un po' di meno. Si sta affermando Cadu che ha fatto oggi una buona partita anche contro Perugia, questo mi fa piacere per un ragazzo che ha fatto 21 anni fa, 20 giorni fa, quindi sicuramente contiamo sulla sua crescita e la crescita poi della squadra con il lavoro che stiamo facendo. Alessio Buompasso per la Cineus 24. Vibo Valencia, come detto, contro la capolista Civitanova dell'ex Blengini, come sapete fresco anche di medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio. Intanto la Calabria si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. La Calabria è pronta a vestirsi di rossa anche quest'anno. Dopo la Via Italiana targata 2016 con la tappa Catanzaro-Prai e Mare, il Giro d'Italia torna a puntare sulla nostra regione anche nell'edizione 2017. Un'intera tappa, due partenze e tre province toccate. 12 anni dopo, l'ultima volta, la corsa, promossa dalla Gazzetta dello Sport, si riaffaccia sullo stretto. Dopo Messina sarà Reggio la grande protagonista della tappa numero 6 che partirà dal chilometro più bello d'Italia e si concluderà le terme luigiane. Il giorno successivo partenza da Castrovillari e arrivo ad Alberobello in Puglia, Reggio. Ospiterà il villaggio della Caromana, la partenza sarà dall'Arena Ciccio Franco e dopo la sfilata nel centro città scatterà ufficialmente la sesta tappa del Giro. Il gruppo continuerà a risalire la città nella periferia nord, passando per Gallico e Catona prima di arrivare a Villa San Giovanni. Una cartolina fantastica in riva allo stretto fino a Bagnera Calabro dopo aver attraversato Canitello, Santa Trada, Scilla e Favazzina. I ciclisti saranno impegnati nella salita di Sant'Elia, famosa per la vittoria di Coppi nel Giro della Calabria nel 1950, scollinamento sul Gran Premio della montagna di Barritteri e poi giù lungo Palmi, Gioia Tauro e Rosarno, successivamente nuova salita per Mileto e Vibo Valencia e altra spettacolare discesa su Pizzo Calabro. Inizierà così un lungo tratto in pianura lungo la Marinella, Falerna, Nocera, Campora San Giovanni, Amante e San Lucito, prima del gran finale da Paola alle Terme Luigiane con tre insalite brevi ma intense. Il giorno successivo nuova partenza Calabra, questa volta da Castrovillari fino in Puglia con arrivo ad Alberobello, Alessio Buompasso per la Cineus 24. Siamo adesso alla palla a nuoto, primo successo della città di Cosenza in quel di Pescara. Primo importante brindisi per Cosenza che sbanca la piscina di Pescara e lontana gli spettri delle due sconfitte di fila nelle prime due gare di campionato, inversione di marcia necessaria per il sette rosa silano dopo l'avvio thriller della nuova stagione. Emozioni a gogone la piscina abruzzese fin da subito. Cosenza aggressivo, Pescara intimorito dalla grinta calabrese. Motta e pomeri firmano il doppio vantaggio, la squadra di casa risponde accorciando le distanze ma subisce il tris e poco dopo anche il poker delle ragazze di Coach Capanna, un allungo pesante che tuttavia non affonda la verve del Pescara più in palla nel secondo periodo e praticamente sempre incollato alle cosentine fino al 13-12. Il castello costruito dalle calabresi sembra cedere, poi pomeri, guanan e decuia inventano le tre reti decisive e per pescare nottefonda. Primo sigillo calabrese dell'anno, il città ha ancora tanto da aggiustare ma la strada sembra quella giusta, prossimo impegno contro Bogliasco, altra corazzata del torneo. Alessio Buompasso per la Cinus24. È tutto, grazie per averci preferito, a voi tutti una buona giornata d'Alessio Buompasso. www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La C News mattina, da lunedì a sabato alle ore 7, domenica ore 8. I calabresi sono informati.